Oggi tingo i capelli e lo faccio in una maniera completamente naturale utilizzando delle erbe. È una colorazione permanente che ovviamente non andrà mai a schiarire il capello, però lo riflesserà e colorerà i capelli bianchi che ho. E il colore che andrà a dare ai capelli bianchi è un biondo dorato caldo. Le erbe che utilizzo sono la curcuma, la lausonia enermis, che è il vero enne, e io uso quello dell'Egitto perché ha delle sfumature più calde, la cassia, definita anche enne neutro, e il malo di noce. Parto con la curcuma, la lausonia enermis, la cassia e il malo di noce. Tingiamo i capelli. Ora aggiungo l'acqua calda, mescolo bene fino a togliere tutti i grumi, lo applico subito sulle radici e lo tengo per circa un'ora. Il risultato finale è... ... Grazie a tutti.